Si chiamava Slava Davidkin, aveva tra i 43 anni d'età ed è stato fatto fuori in una casa di Russia con più di 30 coltellate al petto da parte della moglie. Che si chiama Eugenia, 31enne, stanca di ricevere critiche sulla maniera in cui cucinava, la donna avrebbe aspettato il momento opportuno affinché il marito si andasse ad addormentare, una volta nel sonno più profondo avrebbe preso un coltello e si sarebbe letteralmente scagliata nei suoi confronti. Avrebbe fatto fuori il marito perché avrebbe criticato la sua cucina, il suo modo di cucinare, la sua maniera di cucinare. Durante una cena insieme ad alcuni amici l'uomo si sarebbe infatti lamentato in maniera piuttosto palese per la mancanza di sale nelle pietanze, giudicate come insipide, come senza sapore, l'ennesimo lamentare ricevuta però non è andata giù alla ragazza, la donna, che avrebbe deciso di compiere l'omicidio nei confronti del marito. Vi ringrazio per l'ascolto, accade anche questo nella civile Russia, un paese immenso, grande ma anche straordinario e ricco di bellezze. Un saluto caro a voi tutti, il video termina qua. Slava, Davkin, riposi in pace. Amen.